Ho posato due mandorle di ghiaccio sugli occhi miei perché volevo provare a guardarmi con gli occhi tuoi ma ero in terrazzo a prendere il sole con le api che visitavano innamorate i gerani avviliti da tutto questo rumore rovente. Ho gli occhi sciolti e quel che vedo è una pila incrostata e copiosa di fogli gialli e grigi che mi dicono ti nascondiamo fin quando non decidi di asciugarti le lacrime che scendono dalla fronte piccola che ti ritrovi. La 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 rispondo ai fogli che mi mostrano indifferenti le lingue colorate che vanno ad addormentarsi in uno strato buio della conoscenza dove riposa in letargo il mio sonno.